I topi che frequentano locali e spazi comunali fanno litigare l'amministrazione e consiglieri di minoranza a Palazzo dell'Aquila. Ieri la segnalazione di tracce di escrementi di topo nelle cucine dell'asilo Palazzello 2. Segnalazione allarmante, considerato che ciò avrebbe potuto comportare seri rischi per la sicurezza alimentare dei bambini e per l'igiene sanitaria complessiva dell'ambiente. L'amministrazione comunale non ha gradito, respingendo come tardiva e strumentale tale segnalazione per il fatto che già ieri mattina, prima dell'apertura dell'asilo, era stato compiuto un intervento di derattizzazione. E allora i due consiglieri, nel caso specifico D'Aste e Chiavola del PD, obiettano. Appunto, tutto confermato, è stato necessario intervenire ma non sarà anche necessario accertare se in altri locali, uffici e luoghi di produzione e derogazione di servizi comunali ci siano problemi simili. E soprattutto, non converrà anche risalire alle cause che hanno impedito che il luogo di un'accurata prevenzione si dovesse intervenire dopo un pericoloso allarme che avrà turbato anche la serenità di insegnanti e famiglie in apprezzione per i bambini. Grazie.